I ragazzi erano belli, coraggiosi e ricchi. Correvano per la Ferrari. Erano cinque, morirono tutti. In meno di due anni morirono tutti, tutti al volante di una macchina. Giovani, entusiasti, forti come alberi e con tanta voglia di vincere. Cominciarono a morire nel marzo del 57. Finirono nel gennaio del 59. Cinque e tutti morti. I loro nomi erano Eugenio Castellotti, Alfonso Portago, Luigi Musso, Peter Collins e Mike Hawthorne. Perché i ragazzi morirono? Il caso, sfortunate coincidenze, il destino. Pure non ci si può nascondere quanto fossero indisciplinati. Cinque adorabili, indisciplinati. E gli indisciplinati è il libro di Luca Delicarri, editore Fucina. Oggi forse riaprono le librerie. Correte a comprarlo, mettetevelo in casa e tenetelo lì. È un libro che vi trasporta. È un libro nel quale da pilota non mi riconosco. Tuttavia nessuno aveva la seria intenzione di diventare vecchio. Pensavano solo a correre. Questo già mi dà la distanza della mia generazione da loro. E partiamo da Castellotti. Qui ho la fotografia e la ricostruzione dell'incidente di Castellotti durante il Prove Libere lì a Modena. Una pista del cavolo. Berra due giorni prima aveva fatto il nuovo record con la Maserati e lui doveva provare con la Ferrari. Ma in quei giorni sua madre gli aveva detto se tu sposi quella donna ti caccio di casa. E quindi lui era un po' sottosopra. E' l'unica ricostruzione che non amo di Romolo Tavoni. Perché a me è venuto in mente l'incidente di Castellotti. Tutti dicono si è rotto qualcosa in quella S. Modena era una pista tortuosa, lenta. Si è rotto qualcosa. Forse lui ha buttato invece la macchina. Dice Romolo era disperato. No, un pilota può avere tutti i problemi che vuole. Può fare un errore. Ma un pilota non butta mai la macchina. Non cerca mai l'incidente apposta. A me è venuto in mente che io una volta ho cercato l'incidente. L'ultimo giro a Monza con la Formula 1. L'anno prima col Formula 2 ero in pole position. Non avevo neanche i baffi davanti per guadagnare velocità sul dritto. Ebbene in Formula 1 non riuscivo a fare il tempo che mi aveva portato in pole in Formula 2. All'ultimo giro dissi. Porca miseria la mia ultima corsa. Il team mi ha trattato così. Gli sbatto la macchina contro il guardrail. E alla scari in uscita. Tenni giù. Eppure una volta sul prato, una volta fuoristrada, cercai di controllarla. La macchina è una parte di te. Non puoi buttarla contro un muro apposta. E questa era la storia di Castellotti. E dopo Castellotti questo libro ci parla di De Portago. De Portago alla Mille Miglia, era la sua prima Mille Miglia, aveva un navigatore vicino, un giornalista, come si usava a quei tempi. E la mattina alle 5 si sveglia, va di sotto per bere il tè e il cameriere insomma gli rovescia il tè. E questa era una cosa, lui era superstizioso come tutti gli spagnoli, ma insomma fece buon viso a cattivo gioco. Si preparò ma prima di uscire consegnò un biglietto con le sue ultime volontà. E quando gli scoppiò la gomma portò con sé oltre al suo navigatore anche 9 incolpevoli spettatori. Ma lui aveva questa caratteristica bellissima. Era l'uomo più ricco di Spagna, il settimo erede al trono, girava con la barba lunga, la sigaretta, sempre con un fare transandato. E questo che me lo rendeva un personaggio così diverso insieme agli altri personaggi. Luigi Musso, c'è una foto qui che lo ritrae con uno sguardo dove lui si gira a guardare verso il meccanico. Io conosco quello sguardo. E' lo sguardo del pilota che chiede al meccanico. Che tempo fatto? Che non sa se è andato bene o se è andato male. E in quello sguardo c'è l'indecisione di Musso. Musso era un pilota che poteva essere fortissimo oppure poteva perdere il mordente. Non era un pilota affidabile e quando era forte non ce n'era per nessuno, soprattutto sulle piste veloci, si è ucciso a Reims in una curva il famoso Calvario. Un nome, una profezia e lui era andato a chiedere a Fangio come si fa questa curva e Fangio gli aveva detto sì si può fare in pieno. A me ricorda la mia prima gara a Monza col Formula Italia. Monza, il tempio dell'automobilismo. Il mio compagno di squadra ci aveva già corso. Sono corso da lui a dire senti ho girato due tre giri ma la seconda di Lesmo si fa in pieno? E' quello. Io la faccio sempre in pieno. Vado al terzo giro la faccio in pieno ma mi trovo che il motore è al limite. A metà curva quarta quinta e in quel momento perdo il controllo dell'auto e mi schianto. Resto a bordo pista e vedo passare il mio avversario. Tutti i giri una telefonata lunga mezz'ora. Lui non la faceva in pieno. Ebbene riparata la macchina io l'ho fatta in pieno e ho fatto il nuovo record di quella pista. Mai ascoltare i consigli di chi non è sincero. Dopo Musso Peter Collins. E lui è un personaggio particolare. Innanzitutto uno che parla inglese arriva in Italia e vuole imparare l'italiano. Ce lo rende subito simpatico. E nel 1956 quando comunque anche lui avrebbe potuto lottare per il mondiale a Monza si ferma. Cede la macchina Fangio che vince il titolo. Peter Collins nella sua ultima gara all'Urburgring. Una pista dove i tedeschi dicevano Rosengarden, Plathgarden, Carousel, Bergberg, Aremberg. E per loro pronunciare questi nomi vuol dire, voleva dire capire un luogo. Tu arrivavi là 23 chilometri e 800 metri. Ma come cavolo facevi? E io avevo cercato di impararla tutta facendo il giro a piedi due settimane prima, facendo le foto. E i nomi delle curve che davo io erano tutti diversi. Però tutte le sere prima di dormire facevo un giro di pista mentale a piedi. E quando sono entrato in pista in quell'inferno del Nürburgring, ebbene sono riuscito a girare bene. E per la gara? Per la gara pioveva. E io cosa ho scelto? Di partire con le slick ovviamente. Alla prima curva mi sono girato e sono ripartito ultimo. E questa è la coppa che sono riuscito a conquistare, la coppa del quarto posto, che ha un sapore tutto partito. È l'unica coppa che ho tenuto nel mio studio. E questa coppa ha un sapore particolare perché mi ricordo che rientrando dal Nürburgring con la mia Alfa Sud arrivai a casa e suonai il campanello. E in quell'attimo, suonando il campanello di casa, capì che ero tornato dal Nürburgring, che ero vivo. E Peter Collins invece non ce la fece. Per stare dietro alla macchina che lo precedeva, una Vanval rischiò troppo perché Hawthorne l'aveva visto, loro erano anche amici, c'era l'amicizia a quei tempi e volò fuori. Volò fuori a quei tempi quando la macchina puntava, ti sbalzava fuori dall'abitacolo. C'è un pilota che sul web aveva messo, Bera, che passo! Si era fatto fotografare in mutande, così come un Cristo, e aveva messo tutte le frecce su tutti i pezzi del suo corpo che si era rotto. Finché un giorno Ferrari lo licenziò e lui andò a correre con un Formula 2 Porsche prestatogli da pilotino alla Maria Teresa di Filippis e morì. Ebbene, l'ultimo pilota del quale vi voglio parlare, del quale ci parla Luca Dellicarri, è lui, Mike Hawthorne. E vi dico solo che Tavoni aveva una grande stima per lui. Io mi sono ritrovato questo libro e dopo tanti anni non sapevo perché l'avevo, credevo di averlo comprato. Invece c'è una dedica. Natale 1966 a Sigli con affetto Puccio. Me l'ha regalato mio cugino e nel 66 io non correvo neanche in go-kart, debuttai l'anno dopo. Così ho capito che in questo libro Puccio mi ha consegnato quasi un destino, quello di diventare un pilota, ma non un pilota qualsiasi, non un gentleman. E da ultimo negli indisciplinati trovate cinque capitoli di dialoghi con Romolo Tavoni. Sono cinque capitoli che ci parlano dell'amore, dell'amicizia, della guerra, del destino, della solitudine. Sono cinque capitoli che vi vito a leggere perché dentro Tavoni, dentro questo uomo, non c'è solo la storia di un uomo che ha corso alla Ferrari. C'è la storia di un uomo che ha vissuto accanto a grandi piloti, piloti d'altri tempi, piloti che per fortuna così non esistono più.